Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, basta capire che sono posti, stimati e scombinati, cioè la barba sta crescendo di nuovo. Questo è un nuovo video, questo è un intro, non mi sfoglio da niente. C'è una cosa, qui in camera, tanto mi sono mutato nel microfono del sforzo, cos'è, io gli altri giocatori non mi sento, e anche sulla live e su Twitch, su Twitch mi chiamo un altro nome, se mai ve lo metto il link sotto al video. Oggi, tasera, mangio una mystery box e un panino, e non vi dico com'è fatto, se mai dopo, nella prossima clip, andiamo a prepararlo insieme. E lo preparo io, ma lo andiamo a preparare insieme, ok? E un panino, quindi svolgerò in questa mystery box, in questo panino, come mi è fatto? E vi taglio, come si chiama, qua sotto, così andate a cercarlo. Ok ragazzi? Questa è la mystery box, ragazzi, eccola qui. Questa qui è la mystery box, da Made in Toscani, corta, cortona, porco, brado, box, un box in un cammino. Ho tolto questo ballerino qua sopra per aprire la scatola, dopo andiamo, come ho detto già nella intro, dopo andiamo a aprire, mister box, porco, bravado box, e questo panino. Scusate se mi tolgo un pochino la mano, perché sono stanco, sono nasciuto poco fa, e io lavoro. E domenico, beh, io lavoro nel nostro ristorante, in una settimana. E ci vediamo fra poco nella prossima clip. Non puoi entrare. Entra? Non entra! Entra! Non entra! Entra! Non penso proprio. Andiamo a vedere quanto ho pagato... Ha pagato mia mamma, ha pagato mia mamma nel cammino? Eccolo qua. Conf, bots, porco, porco, bravado, 9,90 euro. Per cento di live, cioè, 10 euro. Scusate, anche aggiunti un'altra cosa, va beh. Allora, spesa, 17 euro è qualcosa. Quello che ci interessa di più è questo qua. Conf, bots, porco, bravado. Quello è il bots che abbiamo visto poco fa. Allora, per esempio, andrei a Califura. Ho scritto conf, bots, porco, bravado. E' quello del bots che ho fatto vedere. Lo cuciniamo fra qualche ora. Ma ora non lo cuciniamo perché sono le... otto e mezza di mattina. e ci vediamo nel prossimo clip in questo video ehm... quando lo vado a preparare. ok? Ok? Ho scritto. Porco brado, bozza, oggi andiamo a fare il panino, qui c'è l'accendita per accedere qui il gas, il dita è la tv che è accesa, è su Rai1, c'è la crea 10, il suo programma e tutto il resto, e fra poco andiamo a prepararlo, a prepararlo, ok ragazzi aspettate una trentina, quarantina di secondi e andiamo a prepararlo, insieme, lo preparo io ma noi veniamo insieme, ok? Andiamo a prendere la padella qua sotto, ho preso, lo metto qua sopra e ci vediamo per poco, qui la padella, vediamo la bozza, c'è questa qui, la mettiamo qua, questa qui dentro, questa è una cosa qui, mettetela qua dentro, il panino, 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 questo è un tipo di hamburger, e ci vediamo la prossima clip con noi, con una parte perché con una sola non ce l'esco facendo inventare la carne e il panino broccato poi il panino lo ha messo qua dentro e dopo 5 minuti è caldo, vedete il panino è caldo, sono già passati 3-4 minuti fra neanche un minuto 30 secondi ne lo tiro fuori e ci vediamo fra poco quando lo tiro fuori è già preparato non può entrare, entra, non entra, entra, non entra, entra, non perso proprio non può entrare, entra, non entra, entra, non entra, entra, non perso proprio vai a letto, vai a letto, vai a letto adesso no, no ma vai a letto tu scusa, se non sono stanco voglio stare qua ancora 5 minuti con questa marea di amici vai a letto, vai a letto prenditi una tisanella, datti una calmata e basta, 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 basta